orca puttana non mi hanno visto davvero prega l'idolo quante persone ci sono madonna ancora eh allora regà è un po' un po' un problema questo madonna puttana quella troia e qui non sono al sicuro per un cazzo ok va bene recuperiamo un po' di vita un po' di soldi direi ed esploriamo un po' in giro ok compresse questa è la fantastica tenuta irata no non credo proprio non credo che sia quella oh qui c'è qualcosa però qui è successo un massacro oh lì c'è qualcuno questa è una zona nuova non so come ci sono arrivato ma ci sono arrivato eri qui per tendermi un'imboscata il bastardo quello lì sta pisciando poi lì è tutto ubriaco mi spiace ma muore cioè mi spiace non è che mi spiace poi così tanto madonna puttana troia ok un andato e mi spiace il fatto che io stia zitto durante tutti i combattimenti ma non riesco a fare altrimenti davvero ragazzi mi spiace ma ah questo qui è ancora vivo mi spiace ma non per molto tu muori ho ricevuto un punto abilità ah bene però non posso canna sputafuoco eccola qui l'abbiamo trovata canna sputafuoco ecco qua una canna di ferro che sputafuoco adattabile al progetto 19 per diventare uno strumento prostetico non è facile controllare le franici di occhi rossi occhi rossi ho la sola forza un'arma con danni da fuoco però può servire a tenere sotto controllo borsale leggero va bene uh orilla oh interessante questa cosa loro non rubano al Buddha per una questione religiosa credo lui è più pericoloso mi sembra se lui era più pericoloso apri mi spiace rubare al Buddha ma se sono cose che mi servono ebbe asha shinobi della scimmia penso che sia l'arma dagli attacchi pesanti questo tizio qui non mi piace molto andiamo qui vai vieni qua bastardo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua muori male ok così posso affrontare i tuoi amici leggermente più tranquillamente uh no col cazzo e chi se l'aspettava ok ritorniamo al tempio di Buddha allora allora se non ho capito male se adesso riposo recupero tutto viaggio eccola qua tenuta irata in pratica abbiamo sbloccato la zona dei ricordi allora noi andiamo al tempio in rovina così possiamo potenziarci e vaffanculo magari riusciamo ad affrontare quel cazzo di orco di merda e puttana la puttana magari facciamo una cosa più buona di quello che abbiamo fatto fino adesso what the fuck oh mio dio infatti qua si vedono gli shuriken qui si vede l'ascia non so da dove cazzo compare e qui e qui fattutamente c'è il cannoncino contro mossa mikiri ne ho due e l'acquisto volentieri ah qui ci sono anche le cose le arti prostetiche vediamo se riusciamo a sconfiggere Shrek ok il problema è che io adesso per attivare quella cosa lì mi servirebbe un po' più di emblemi spiritici ok devo provare ad ammazzare questo qua non so cosa è successo ma è successo però uno solo non me ne faccio niente di uno solo no ma ha preso puttana quella troia ok però abbiamo visto che il fuoco gli fa un po' di danno in più un po' molto danno in più non posso risorgere no dai come ha fatto a beccarmi raga come cazzo ha fatto a beccarmi puttana quella troia e vaffanculo vaffanculo basta raga non ce la faccio non ce la faccio è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.